Fissata la data d'inizio dei saldi invernali, ieri è stato firmato il decreto dirigenziale che stabilisce, sentite le associazioni di categoria, la data dei saldi invernali. Come si legge nella nota diramata dalla Regione, in campagna la data d'inizio saldi è lunedì 11 gennaio. La stagione degli sconti nell'era Covid durerà 60 giorni, ovvero terminerà l'11 marzo prossimo. L'augurio è che si possa dare una boccata d'ossigeno a un comparto che sta vivendo mesi difficili a causa della pandemia e alle restrizioni ad essa legate che ad oggi hanno fatto registrare un notevole calo di vendite. Anche con la stagione dei saldi, clienti e commercianti dovranno continuare ad osservare le regole del distanziamento sociale e dell'uso delle mascherine, evitando assembramenti e tenendo comportamenti rispettosi delle indicazioni anti-Covid. E come avviene sempre in occasione dei saldi, le raccomandazioni sono le stesse. Il prezzo originale di ogni prodotto in saldo deve essere sempre indicato in modo chiaro e inequivocabile, vicino alla percentuale di sconti e al prezzo scontato. Difidare dalle vetrine tappezzate dai manifesti che non consentono di vedere la merce o che reclamizzano sconti eccessivi. Le merci in saldo devono essere tenute in zone separate rispetto a quelle non in saldo, in modo che i clienti non confondano i capi non in saldo con quelli scontati.